Priolo Gargallo, street art e scultura, un vero museo a cielo aperto, Grasso voglio un paese a colori. Le idee sane, la moderazione, il senso di appartenenza e il valore delle istituzioni possono essere considerate come un comune denominatore da esprimere per il bene della collettività e con iniziative da inglobare durante tutto il periodo dell'anno che possono far riflettere un metodo quotidiano all'insegna della determinazione del contributo fattivo. Queste le intenzioni di Michela Grasso che con un video intriso di alcune riflessioni vorrebbe trasmettere ai cittadini di Priolo. Voglio un paese a colori, non è solo un semplice e accattivante slogan ma un modo di vivere nella nostra città con l'idea di realizzare un percorso artistico che si snodi tra le vie attraverso murales, installazioni anche scultorie, street art e ancora meglio rigenerazione artistica urbana coinvolgendo l'associazione del nostro territorio e i movimenti della provincia. L'obiettivo è di far diventare Priolo un vero e proprio museo a cielo aperto in grado di attrarre turisti e appassionati d'arte come è avvenuto in chi ha scommesso su arte, cultura, sul bello. Perché non dovrebbe accadere da noi? Serve solo una cosa, crederci, conclude Grasso.